Per addormentarti velocemente, prova a contare i tuoi respiri o a pensare a qualcosa di rilassante e ripetitivo, come dei pesci che nuotano in un ruscello. Puoi anche provare con delle tecniche di rilassamento muscolare, flettendo e distendendo i muscoli uno per uno. Se questo non ti è d'aiuto, prova a raccontarti una storia nella mente finché non scivoli nel sonno. Mettere della musica di sottofondo un rumore bianco potrebbe aiutarti a spegnere i pensieri e farti addormentare più facilmente.